Si accendono le luci del Natale ad Eboli che anche quest'anno propone a cittadini e turisti un ampio calendario di iniziative che verrà inaugurato a questo fine settimana dalla Due Giorni sull'Olio d'Oliva dedicata a San Berniero. Gli eventi dedicati al periodo più suggestivo dell'anno procederanno fino al 6 gennaio quando si concluderanno con il gran concerto dell'Epifania. Sindaco, chi sono i protagonisti di questo Natale ad Eboli? Sono gli ebolitani, le associazioni e poi consentiti in primis l'amministrazione comunale che crede fortemente che la promozione di un evento che ha una valenza storica, culturale e religiosa ma anche è un'economia, è un indotto che gira intorno al momento del periodo natalizio e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo tutto ciò che sono le risorse da mettere in campo. Noi offriamo 70 eventi di cui la metà sono eventi di elevato spessore culturale nella riscoperta dei valori, delle tradizioni, delle usanze tipiche ebolitane e poi tante iniziative ludiche per i bambini e per i giovani affinché Eboli possa essere sempre di più una città accogliente una città dove l'economia deve girare e dove nonostante le poche risorse io lo ricordo, questo è un Natale di 70.000 euro con tutte le luminari e tutto ciò che è previsto rispetto ad altre amministrazioni che spendono migliaia e migliaia di euro in più anche di comuni molto più piccoli, vuol dire che abbiamo avuto quella capacità di fare sinergia con le associazioni, con gli imprenditori privati che ci sostengono e ci finanziano. Ebbene noi offriamo questo e poi ci auguriamo che con l'inaugurazione dell'8 dicembre che faremo una presentazione specifica, rilancieremo ancora di più le immagini della città di Eboli. Qual è l'evento di punta di questo Natale ad Eboli? Come da tradizione il Natale ad Eboli si accende l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata con l'accensione appunto delle luminari, dell'albero di Natale in Piazza della Repubblica l'inaugurazione del Villaggio dei Bambini e l'apertura di Borgo d'Arte in Via delle Arti Via delle Arti che quest'anno allunga il suo percorso a Corso Caribaldi infatti si unisce in una logistica quasi naturale lo storico Corso Umberto I e sarà caratterizzato da una serie di eventi che presenteremo nel fine settimana. Poi naturalmente i tre gran concerti, altra premialità della città di Eboli con il gran concerto di Santo Stefano del 26 nella chiesa collegiata di Santa Maria della Pietà il gran concerto di Capodanno il primo gennaio del maestro Vigorito nella chiesa di San Francesco ed infine il gran concerto dell'Epifania del soprano Esmeralda Ferrara che come da tradizione chiude il calendario natalizio.